era una località forse di perciare anche d'estate immagino e quindi il cambiamento climatico cambia anche appunto l'economia dei luoghi, ci sono regioni del centro Italia che praticamente d'inverno non hanno più neve, alcune località dell'Abruzzo per esempio quindi Michele poi se vuoi tu sei anche mille altre cose pensiamo a un riassunto se vuoi raccontarci qualche altra cosa e poi ti ascoltiamo grazie e benvenuto grazie a voi, buongiorno grazie dell'invito mi sentite bene? sì sì perfettamente bene intanto sì faccio anche io una piccola presentazione, allora io sono Michele Bertolini ho 38 anni sono sindaco di Vermiglio da un paio d'anni e mi occupo del consorzio Ponte di Legno Tonale circa dal 2015 con vari ruoli adesso ricopro il ruolo di direttore, diciamo che allora la nostra è una realtà turistica di montagna abbastanza particolare nel senso che diciamo siamo posti proprio sul confine tra regione Lombardia e Trentino abbiamo una ricca storia dal punto di vista anche dei tempi insomma che riguardano il primo conflitto mondiale dove eravamo diciamo per metà austriaci quindi austro-ungarici come era il mio comune essendo in Trentino invece avevamo Ponte di Legno che invece era una località italiana quindi ci portiamo ancora a questo patrimonio storico ben visibile sul nostro territorio e quindi per darvi un quadro un po' di cosa parliamo e di dove siamo invece dal punto di vista personale sono architetto una laurea in architettura per la sostenibilità un campo diciamo quindi già 15 anni fa il tema della sostenibilità era molto importante tanto che l'Università di Architettura di Venezia aveva impostato proprio un corso di laurea appositamente incentrato su questo tema quindi da lì poi ci sono delle nozioni base abbastanza strutturate che poi comunque sia la storia personale di una persona riusciamo comunque a tradurle poi nel lavoro quotidiano ecco questa è una breve presentazione io adesso vi condivido il mio schermo in modo che se mi dite quando lo vedete poi ci piace pensare che assicurarsi sia come imparare a molti turismo sport la nuova sfida grazie dell'invito di sport e salute del ministero insomma per questo mio intervento ho dato un titolo che è la sostenibilità dalla nascita del concetto alle esperienze nel turismo montano innanzitutto volevo fare un'introduzione per capire oggi la parola sostenibilità è anche molto inflazionata la sentiamo tutti i giorni sia i giornali però bisogna capire un po' anche l'evoluzione storica del concetto tutto parte nel 1983 quando l'ONU crea una commissione con il compito di trovare un modo per soddisfare i bisogni primari di una popolazione mondiale in continuo aumento tempesta perfetta perché negli ultimi inizia a capire che ci sono la popolazione cresce ci sono paesi in via di sviluppo che stanno emettendo sempre più CO2 ci sono esigenze alimentari che impongono per questo un aumento della produzione di energia a livello globale e quindi iniziano a insinuarsi i primi dubbi andiamo poi all'87 dove in occasione delle conferenze delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo viene presentato il primo rapporto Brutland Brutland praticamente è il cognome di una presidentessa norvegese a cui viene dato il carico l'incarico di dirigere questa commissione che dovrà andare ad analizzare quelli che sono i problemi climatici e di aumento di demografico quindi secondo il primo rapporto di questa commissione praticamente viene stabilito il concetto di equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e sviluppo economico che consenta di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri e questo ancora oggi noi ce lo portiamo avanti come definizione di sostenibilità quindi per dare quindi un primo elemento concettuale cos'è la sostenibilità la sostenibilità non è solamente rispetto dell'ambiente ma è l'equilibrio che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione per non lasciare a chi verrà dopo di noi un sistema ambientale ma anche economico sociale peggiore di quello che troviamo adesso e questo è un concetto fondamentale che poi ci ritroveremo anche negli anni successivi andiamo quindi poi al 1992 qui c'è una conferenza di Rio qui è una conferenza molto importante ci sono 178 governi e 120 capo di stati che partecipano alla conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo quindi vedete che c'è sempre questo dualismo tra tutela dell'ambiente ma anche non ridurro quello che è lo sviluppo del progresso umano allora lo scopo della conferenza è quello di individuare quali sono i criteri più opportuni per conciliare le esigenze dei paesi poveri e quelle dei paesi industrializzati qui si sente sempre di più il fatto che ci sono paesi che economicamente stanno salendo stanno facendo un periodo di industrializzazione che invece quelli già industrializzazione avevano già fatto in passato con relativi emissioni relativi problemi quindi i paesi partecipanti iniziano a sottoscrivere degli accordi a sottoscrivere degli accordi importanti quindi abbiamo l'agenda 21 la dichiarazione di rio la dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste che questi sono solo accordi scritti che non vincolano i paesi in alcun modo invece ce ne sono due convenzioni giuridicamente vincolanti la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla diversità biologica e di cosa parlano questi questi due accordi vincolanti il primo introduce per la prima volta il concetto di effetto serra allora l'effetto serra è un fenomeno che esiste da sempre è naturale e praticamente l'atmosfera limitando la dispersione del calore permette di mantenere una temperatura costante sul nostro pianeta però si inizia a capire qual è il problema cioè l'immissione nell'atmosfera di elevate quantità di anidride carbonica è il problema che vediamo sempre più importante di questi giorni come diceva prima col cambiamento climatico se noi andiamo a immettere tante CO2 in atmosfera ovviamente l'effetto serra naturale aumenta e causa un eccesso riscaldamento del pianeta e quindi un aumento della temperatura quindi questa è la prima volta che a livello governativo di Nazioni Unite si parla di questo problema il secondo problema è il secondo tema su cui si fa un accordo vincolante è la tutela della biodiversità quindi si sancisce il fatto che non si potrà più sfruttare indiscriminatamente quelle che sono le nostre risorse naturali perché altrimenti viene messo in crisi il sistema di biodiversità del pianeta da qui poi si dimanano una certa una serie di direttive europee che troviamo anche noi ad esempio sul nostro territorio il nostro territorio montano io faccio l'esempio del mio comune dove c'è un'area naturale definita a livello europeo ZCS che è la tutela di una torbiera la torbiera è un ecosistema molto particolare dove si riproducono le libellule si riproducono alcuni diciamo una serie di flora di fauna che altrimenti se non tutelate potrebbero comunque andare in crisi ad esempio vi faccio un altro esempio abbastanza importante che ha stupito anche me c'è un parco fluviale invece della valle del mio comune e in Val di Sole che ci è un parco fluviale che comprende un'ontaneta dove è stato scoperto l'anno scorso una popolazione di gamberi di fiume quindi erano per noi spariti negli anni 50 grazie alla tutela di queste acque comunque pulite ci sono tante direttive che vanno a controllare quello che sono gli scarichi industriali e gli scarichi anche civili all'interno dei fiumi e c'è stata la riscoperta di questo genere che si considerava estinto quantomeno nel nostro territorio quindi invece parliamo anche di Agenda 21 l'Agenda 21 è un documento molto importante perché costituisce un primo passo verso un accordo internazionale per combattere i problemi ambientali allo sviluppo sostenibile diventa uno degli obiettivi che vanno inserite nelle iniziative economiche e sociali di ogni paese quindi anche qui da qui capiamo come anche tutte le leggi nazionali e le tutele che abbiamo inserite diciamo a livello nazionale e poi recepite a livello provinciale e che arrivano poi ai vari comuni partono da questo anno dal 1992 con la conferenza di Rio arriviamo poi al 97 qui vi ho messo una slide un po' simpatica c'è la conferenza di Chioto c'è una canzone famosa di Caparezza in cui dice la conferenza di Chioto non è solo il protocollo di Chioto non è solo un film erotico giapponese perché ne sentiamo parlare talmente tanto e lui con una frase buffa dice parlava in questa canzone dei problemi della della sua terra della Puglia di tutte le diciamo le costruzioni indiscriminate e faceva questo questo acceno al protocollo di Chioto e anche noi lo sentiamo spesso parlare in tv ma ben poco sappiamo di cos'è allora cos'è la conferenza di Chioto viene approvato per la prima volta un protocollo con obiettivi molto precisi e vincolanti per tutti i paesi che l'impegna a ridurre complessivamente del 5% le emissioni di gas capaci di alterare l'effetto serra quindi uno di questi è la CO2 poi ci sono una serie di altre emissioni minori allora qui cosa dice che in questa conferenza si definisce un protocollo che entrerà in vigore quando verrà ratificato da almeno 55 paesi di cui 34 devono essere paesi industrializzati questo perché l'unione di questo paese deve essere almeno la maggioranza di tutte le emissioni presenti sulla terra qui cosa succede succede un problema a un primo momento aderiscono anche gli Stati Uniti che poi nel 2001 però si ritirano da questo accordo quindi gli Stati Uniti sono ad oggi responsabili di un quarto delle emissioni mondiali di gas serra e diciamo che aumentano di ogni anno di un punto e mezzo per cento quelle che sono le emissioni in linea con quello che sta facendo tutto il pianeta quindi come vi dicevo entrano nella prima fase nel 2001 escono quindi viene stabilito nel 1997 un protocollo che però non parte a Johannesburg nel 2002 Cina, Canada e Russia dicono di voler partecipare e aderire al protocollo di Chiotto questo è un momento importante perché praticamente viene inserito un altro concetto l'altro concetto importante è che non si potrà più fare tutto dall'alto quindi non sarà possibile che un cambiamento di passo avvenga solamente con direttive da parte diciamo degli stati centrali ma dovranno essere dovrà essere fatto un processo di comunicazione su tutti i cittadini affinché si rendano consapevoli dei problemi che in questo momento ambientali economici e sociali che può portare diciamo una continua crescita dell'emissione di questi di CO2 e comunque un utilizzo indiscriminato delle risorse quindi da qui dal 2002 in avanti anche noi verremmo continuamente sensibilizzati a livello mediatico e a livello normativo con delle piccole cose che poi ci ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni parlo vi faccio un esempio abbastanza diciamo visibile a tutti la raccolta differenziata e mi ricordo che quando diciamo nei miei anni scolastici di elementari e medie qui si era iniziato a fare la raccolta differenziata della carta dal 2002 in poi è stato proprio un cambio di passo che ha portato a una gestione diciamo dei rifiuti in modo completamente diverso parlo poi della mia esperienza personale amministrativa qui abbiamo una raccolta differenziata che si aggira al 75% ci siamo dati l'obiettivo anche con un cambio non piacevole se vogliamo per i nostri cittadini comunque abbiamo inserito ancora quest'anno a partire da gennaio un metodo molto più rigido che prevede una tessera personale per il conferimento del rifiuto secco perché puntiamo ad arrivare al 90% per l'anno prossimo quindi diciamo che dal 2002 si cresce e ci portiamo ancora questa memoria del 2002 negli atti nella responsabilità anche di ogni persona ma anche amministrativa nel senso nel bagaglio culturale di ognuno c'è in questo momento che bisogna cercare di diminuire diciamo gli sprechi bisogna favorire il riuso il riciclo in questo caso parlando proprio di diciamo di rifiuti andiamo proprio in un caso molto specifico scusami sindaco un secondo proprio questo proposito ti dice le responsabilità amministrative come diciamo siamo più sensibili ieri sera durante una scena conviviale ho incontrato il capo dell'ufficio legislativo della Gelmini quindi il ministero degli affari regionali che mi ha detto lo voglio dire a tutti perché per la montagna la pianura eccetera che hanno appena approvato un fondo per rimborsare i crediti ambientali sui boschi cioè allora poiché la normativa cioè il credito quello internazionale quello cioè io lo dico male perché non è il mio campo quindi scusami diciamo la maniera informale di dirlo però era una notizia che volevo dare cioè i crediti quelli internazionali tipo la Cina compra i crediti perché inquina tanto quelli sono regolati per noi siamo in Italia dall'Unione Europea mentre invece il ministero dà dei fondi credo adesso non so l'importo per appunto chi diciamo emette con ossigeno attraverso quindi i tiani boschi le foreste eccetera che chiaramente devono essere tenute bene quindi anche diciamo un modo per tenere bene le nostre foreste che poi aiutano a evitare i disastri idrogeologici che sappiamo e mi diceva che già dei piccoli comuni si sono diciamo consorziati per questo quindi il ministero delle politiche regionali e a chi insomma può interessare se c'è qualcuno che lavora con le amministrazioni di amministrazione pubblica ecco si può informare e un'altra piccola cosa mi permetto che tutto questo che ci sta dicendo il sindaco è importante perché ma che cosa c'entra sostenibilità con lo sport c'entra soprattutto per quello che stiamo dicendo noi cioè uno sport appunto di turismo e sport e quando parliamo di turismo e sport parliamo anche molto di sport outdoor e quindi di cicloturismo di trekking di passeggiati di northern walking e i turisti sportivi che praticano questi sport outdoor sono anche diciamo generalmente persone diciamo più sensibili all'ambiente e quindi avere magari un bollino verde non so adesso come dirlo invece che le bandiere blu del mare insomma un comune per esempio sostenibile e quindi dei percorsi per esempio con i cestini con raccolta differenziata eccetera così credo che possa diciamo aiutare sindaco correggimi se sbaglio no sono d'accordo dopo lì questo discorso dei crediti anche noi lo stiamo affrontando diciamo da qualche anno a livello di impianti di risalita qui da noi ci sono gli impianti di risalita sono delle diciamo aziende energivore noi quello che facciamo è che poi arriverò dopo a raccontarvi come facciamo noi produciamo energia verde dall'idolo elettrico quindi energia pulita per farli funzionare che viene prodotta in loco poi adesso ci sono altre dinamiche che si stanno sviluppando anche a livello normativo nazionale che verranno favorite queste comunità energetiche rinnovabili quindi si va a delineare sul territorio dei piccoli ambiti di territorio in cui si cerca un equilibrio energetico rinnovabile che verrà anche incentivato e noi su questo stiamo molto attenti perché quello che deve passare negli anni non sempre gli impianti di risalita sono visti come i migliori amici del territorio però noi siamo impegnati su questo cercando di farli funzionare a energia pulita e questo ce l'abbiamo fatta seconda cosa ci eravamo anche noi informati per capire quello che non riusciamo a fare con l'energia pulita perché ovviamente andiamo a battere le piste con i lati delle nevi cercare di capire un progetto che potesse andare a pareggiare questa di emissione di CO2 con qualcosa di positivo per l'ambiente allora ci siamo scontrati con diciamo queste direttive europee che a volte favoriscono come dire ok qualcosa di troppo grande perché ok tu consumi CO2 qui e per bilanciare potresti andare a piantare degli alberi in amazzonia che va bene però diciamo che a noi sarebbe bello nella ragionamento che c'è a livello nazionale di queste comunità energetiche fare qualcosa sul nostro territorio allora ci stiamo interrogando su questo in questo momento come dicevi c'è un problema molto importante sulle foreste perché il cambiamento climatico sta comportando una dopo Vaia che è stata la grande tempesta del 2018 quando tanti alberi anche nella nostra zona con una folata di vento decisamente anomala sono stati abbattuti quando tanti alberi vengono abbattuti e non si riescono ad asportare nel tempo più veloce possibile cresce un parassita è una piccola formichina che si chiama bostrico che nell'immediatezza va a diciamo si nutre della linfa degli alberi che sono già a terra appena dopo la popolazione prolifica e va a intaccare tutti gli alberi che sono vicini quindi se vi invito a venire sul nostro territorio a vedere le nostre opportunità che possiamo offrire a livello turistico vedete anche che ci sono molte macchie di alberi senza aghi noi abbiamo tanti abeti senza aghi che sono morti perché questo bostico si allarga proprio a macchia d'olio e questo per chi ancora non capisce che il cambiamento climatico c'è qui si vede veramente in modo importante perché vai abbattuto gli alberi il caldo la siccità ha fatto prolificare questo elemento nelle due stagioni estive successive e adesso sta minando insomma la l'esistenza del nostro bosco quindi quello che stiamo tentando di fare adesso è anche noi cercare un qualcosa di nostro nel senso stiamo perdendo una fitta di bosco vorremmo legare la nostra emissione di CO2 parificandolo andando a piantare degli alberi in dopo perché la gente è vero che le persone i turisti ma anche noi è sempre bello se vediamo e riusciamo a concretizzare in un posto molto vicino diciamo delle buone pratiche perché sarebbe forse un po' troppo comodo dire una riga sul sito in cui diciamo ok batto le piste con il rato delle nevi però vado in amazzonia a piantare delle palme quindi benvenga questa notizia che ci dai dal ministero perché anche noi sarebbe diciamo una anche per un comune come il mio sicuramente un'iniziativa favorevole perché abbiamo dei problemi stiamo cercando di risolverli con l'aiuto che potremo avere da parte anche con aiuti del ministero andare a cercare di porre rimedio piantando nuove alberi è vero che ci vorranno 30 o 40 anni però bisogna in qualche modo partire per essere pronti tra qualche anno ad avere un bosco curato perché quando non abbiamo un perché i boschi sono così importanti perché comunque dicevi generano poi dei problemi idrogeologici veramente importanti che vanno se noi ci pensiamo è vero che se pensiamo una frana in montagna ce ne sono tante le vediamo che scendono però quello che va a creare è anche dei problemi sulla mobilità se noi pensiamo alla nostra stradina che sale dalla Val di Sole e poi quando tu sali e ti avvicini al passo montano sei sempre in una valle più stretta la nostra è una valle molto stretta dove la strada si inerpica su un versante del territorio che adesso è veramente in pericolo di rimanere senza alberi quindi scoperto e quindi a rischio sia dal punto di vista invernale di slavine cioè di neve che cade sulla strada e ce la blocca che in estate di problemi idrogeologici e queste non possiamo permetterci a livello nazionale di andare a bloccare un'arteglie che comunque va a collegare Milano con poi con la Valcamonica e poi si arriva giù a Trento il collegamento con il Brenner questi sono anche problemi più grandi per poi non parlare delle reti elettriche qui passano le reti elettriche che poi collegano le città sempre dicevo Milano Brescia Bergamo salgono e collegano Trento anche qui se pensassimo che rimangono scoperte quindi ogni fenomeno che ci può essere analogo a vaia di importanza diciamo di forte importante che può provocare degli smottamenti metterebbe in pericolo quindi un equilibrio anche energetico che abbiamo a livello sicuramente del nord Italia quindi grazie e speriamo insomma che ci siano notizie quanto prima che ci aiutino anche a guardare al futuro e cercare di insomma preservare anche quanto abbiamo a livello infrastrutturale continuo poi sulla presentazione vi dicevo nel 2005 cosa succede? Entra in vigore il protocollo di Chiotto perché Russia Russia Canada e Cina come dicevo entrano a far parte sottoscrivono il protocollo quindi si raggiunge quel plafond del 55% che era necessario per far partire questo progetto quindi arriviamo quindi a tempi più vicini a noi nel 2015 nel Summit delle Nazioni Unite di cui vi cito insomma la frase di Ban Ki-moon che era il segretario generale che è abbastanza che è importante impattante e quello che rimane insomma anche che è uscito come la frase più simbolica il suo incontro è non abbiamo un piano B perché ne esiste un pianeta B quindi da lì parte effettivamente quello che è la sostenibilità chiamiamola moderna allora vengono definiti 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che verranno poi ratificati nell'accordo di Parigi che è del 2016 in cui vengono definiti 17 obiettivi per avere un vero sviluppo sostenibile del territorio l'America era uscita ma l'anno scorso è rientrata quindi diciamo che c'è una buona fetta di tutti i governi che rappresentano tutte le nazioni quindi quali sono facciamo un attimo un piccolo riassunto quindi abbiamo tre accordi sul clima importanti quella di Rio del 92 quello di Chioto nel 97 e quello di Parigi del 2015 quindi con l'obiettivo di Parigi abbiamo i 17 obiettivi di sostenibilità e l'obiettivo del meno 40% di gas serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 quindi articolo 2 anche dice una cosa molto importante bisogna fissare l'obiettivo di restare ben al di sotto dei due gradi rispetto ai livelli preindustriali di aumento di temperatura anche qui un obiettivo che lo sentiamo molto spesso anche in televisione sta crescendo la temperatura quindi c'è un obiettivo dato e normato da un accordo sul clima tutta l'Unione Europea ha ratificato questo accordo gli obiettivi quali sono quindi qui li vedete per elencati elencati ce ne sono tanti di macro ma ci sono tanti obiettivi anche che possiamo poi andare a tradurre su quello che sono la nostra vita quotidiana quindi sconfiggere la povertà sconfiggere la fame salute e benessere quindi per quello che dicevamo prima perché la sostenibilità va a incastrarsi con sport e turismo perché salute e benessere è uno dei primi obiettivi della sostenibilità istruzione di qualità parità di genere acqua pulita e servizi igienico sanitari anche qui quindi andiamo inescarci con una salvaguardia di quella che è l'acqua poi andrò a toccare anche quello che facciamo noi sull'acqua noi abbiamo degli acciaio e li vediamo che si sciolgono anno dopo anno in modo veramente importante però uno degli obiettivi fondamentali è acqua pulita e servizi igienico sanitari energia pulita ed accessibile anche qui si vede tradotto in quello che vi raccontavo prima nella nascita delle comunità energetiche dell'autoconsumo degli incentivi a chi fa nuovi impianti di produzione dal solare dall'eolico e dall'idroelettrico lavoro dignitoso e crescita economica quindi qui ci sono aspetti sociali quindi non solo ambientali ma anche ogni persona deve avere un lavoro dignitoso che permetta comunque una crescita economica quindi non è vero che la sostenibilità dice lasciamo tutto com'è e decresciamo dice che come va a tutto il lato la crescita e lo sviluppo a livello mondiale imprese innovazione infrastrutture anche qui bisogna sempre cercare di innovare di fare nuove infrastrutture e di favorire l'impresa ridurre le disuguaglianze città e comunità sostenibili quindi viene introdotto questo punto quindi dal 2015 in cui dovranno esserci delle comunità quindi va anche a definire il fatto che esiste una comunità quindi una pluralità di soggetti che si incontra e cerca di stabilire delle regole per essere sostenibili consumo e produzioni responsabili quindi del singolo insomma del riciclo del riuso non si potrà più andare a consumare indiscriminatamente ovviamente qui ci sono poi le direttive europee perché sappiamo che bisogna comunque mantenere un livello e c'è anche una lotta con delle lobby è inutile dirlo di alcune di alcune fasce che ovviamente tutelano i loro interessi economici tuttavia quando parte una direttiva capiamo che dopo una serie di anni lo vedremo sulle nostre vite si pone in questo momento un freno al consumismo e si dice che dovremo avere una produzione responsabile favorendo il riuso e il riciclo lotta quando il cambiamento climatico di questo chiaramente ne abbiamo parlato favorire la vita sott'acqua bisogna stare attenti sappiamo tutti sentiamo anche qui i problemi delle plastiche in mare o comunque dell'eccesso sfruttamento delle popolazioni marine qui viene posta un'attenzione che è legata diciamo al punto 6 alla tutela dell'acqua vita sulla terra quindi qui ci colleghiamo comunque al tema della biodiversità che è già stato introdotto prima tutte le forme vanno diciamo di biodiversità sia flora che fauna vanno tutelate rispettate quindi qui andiamo poi si andrà poi a lavorare sul discorso dei parchi delle zone natura 2000 che vanno tutelate e poi pace giustizia istituzione solide questo è un altro punto che diciamo in questo momento poi è importante anche sulla vita di tutti però un obiettivo di sostenibilità è anche questo capiamo poi perché in un momento di conflitto ovviamente tutti questi obiettivi passano in secondo piano e sappiamo che c'è un utilizzo indiscriminato di armi prodotto con grande spreco energetico lo vediamo proprio in questi giorni va in crisi e sappiamo il discorso alimentare della difficoltà di esportare il grano dall'Ucraina che mette in crisi tanti dei punti che abbiamo visto precedentemente partnership per gli obiettivi qui sancisce il fatto che non si può lavorare da soli ma a livello strutturale di ogni nazione deve cercare di avere partnership tra i vari livelli di governo tra i vari livelli cooperativi tra i vari livelli sia istituzionali che imprenditoriali per cercare di raggiungere questi obiettivi quindi per andare ancora a semplificare cercare di capire cosa parliamo quando parliamo di sostenibilità come vedete dove troviamo scritto economia col puntino col puntino nero è lo sviluppo tradizionale in un diagramma immaginario poco sicura di quello che è l'equità sociale e l'ambiente mentre se noi andiamo a intersecare i tre bollini verde rosso e blu andiamo a capire che alla fine quando parliamo di sostenibilità altro di altro non parliamo se non di un equilibrio e una responsabilità che ogni ogni persona deve avere per mantenere diciamo una bilancia un equilibrio tra questi tre fattori quindi invece se passiamo a destra appunto c'è proprio il diagramma in cui dice noi che siamo ora mi metto nei panni di un amministratore abbiamo una responsabilità istituzionale che poi si tramuta e va passato un messaggio ai cittadini un passaggio nella vita quotidiana prima vi ho fatto il discorso dei rifiuti ma se parliamo all'organizzazione di un evento se parliamo di andare a favorire l'utilizzo di energia per i nostri cittadini per la distribuzione da fonti non fossili se andiamo a dare il buon esempio per installare sui edifici comunali o sulle nostre infrastrutture sistemi di produzione dell'energia da fonte rinnovabili noi ad esempio qui nel nostro comune abbiamo due centraline idroelettriche e quindi che ci permettono insomma anche di produrre una grande quantità di energia che poi in parte utilizziamo in parte vendiamo che comunque favorisce il fatto che noi come comune e comunità andiamo riusciamo ad avere un bilancio tra quello che produciamo e quello che vendiamo positivo quindi vi è una responsabilità ambientale una responsabilità sociale anche quando abbiamo visto prima i vari obiettivi la responsabilità sociale è molto importante perché ovviamente anche a livello di comune bisogna stare molto attenti all'interno delle nostre comunità a non lasciare indietro nessuno questo è un è sancito quindi anche a livello di accordi europei poi di direttive quindi bisogna stare molto attenti anche a livello sociale quindi avere delle imprese sì che favoriscano l'impiego di persone e di diciamo di persone del posto fare eventi organizzare attività che comunque diano lavoro alla nostra comunità e quindi poi quando si intrecciano questi tre responsabilità se ne fa carico ovviamente a quello che danno come risultato uno sviluppo sostenibile poi vado a parlarvi adesso di responsabilità sostenibilità e turismo cosa si intende per turismo sostenibile appunto qui vi scrivo qual è la definizione data dall'organizzazione mondiale del turismo di turismo sostenibile a un turismo capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze economiche sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo l'integrità culturale i processi ecologici essenziali la diversità biologica i sistemi di vita e dell'area in questione quindi qui anche vedete come si parla di turismo e vengono introdotto all'interno del del connubio turismo e sostenibilità tutti quegli obiettivi che sono fissati a livello globale quindi attenzione alla comunità locale attenzione alla alla storia locale attenzione ai prodotti locali attenzione al rispetto del dei fattori ambientali ed ecologici dei della località andiamo poi al nostro caso noi come vi dicevo siamo all'interno del consorzio Ponte di Legno Tonale è un consorzio che raggruppa il territorio di 5 comuni che stanno tra la Lombardia e il Trentino qui noi ci siamo interrogati su come potevamo anche noi dare un messaggio a livello turistico di quello che facciamo e degli obiettivi che vogliamo darci per il futuro perché tanto sappiamo di farlo e farlo bene ma dobbiamo anche noi cercare di alzare la stricella e cercare di essere sempre più sostenibile per fare questo cosa abbiamo fatto abbiamo intrapreso l'anno scorso la redazione di un bilancio di sostenibilità che cos'è un bilancio di sostenibilità è uno strumento che parallelamente al bilancio diciamo tradizionale che per una società va a dire essenzialmente va a fare un bilancio tra entrate e uscite quanto siamo stati bravi a risparmiare o quanto abbiamo speso diciamo che un consorzio ha nel suo il nostro consorzio nel suo statuto sociale è un consorzio di promozione turistica quindi nel suo statuto dice che quanto incassiamo perché noi andiamo a incassare sia dalle società impianti dall'autotassazione degli albergatori e degli esercenti un po' dai comuni tanto incassiamo poi tutto lo utilizziamo per fare promozione turistica e quindi andiamo a inserire un bilancio di sostenibilità che va a relazionare anche di quante buone pratiche relative ai 17 obiettivi diciamo di sviluppo sostenibile riusciamo a mettere in atto sia a livello economico che ambientale che sociale quindi questo saremo pronti per il ottobre 2022 quando il 2-3 ottobre ci sarà una grande fiera della sostenibilità che si terrà a Brescia in cui andremo a presentare diciamo quelli che sono i risultati di questo studio ma diciamo che cosa emerge dal nostro lavoro emerge una grande attenzione all'ambiente come quello che vi dicevo prima che cerchiamo sempre cerchiamo di utilizzare energia completamente rinnovabile andiamo a fare la copertiva la copertura estiva del ghiacciaio Presena anche qui cosa significa significa che ovviamente il ghiacciaio del Presena è uno dei primi punti in cui si è sempre sciato nella nostra località da quando è nato il turismo quindi dagli anni 50 in avanti è un diciamo un elemento naturale a cui tutta la nostra comunità è molto è molto legata e negli ultimi anni vediamo che sta calando veramente a vista d'occhio se pensate che a luglio ogni giorno cala lo spessore del ghiaccio cala di 7 centimetri e questo è veramente impressionante perché vorrebbe dire che non averlo più in un paio d'anni quindi per evitare questo perché ovviamente è anche un fattore di di rendita dal punto di vista economico perché lì si scia e quindi noi viviamo diciamo che la nostra economia delle nostre comunità di montagna si basa sul grande motore degli impianti degli impianti di risalita a cui poi si collegano il settore alberghiero si collega gli 150 maestri di sci che abbiamo si collegano tutti gli esercenti quindi è dal 2008 che andiamo a coprirlo con dei teli andiamo a coprirlo con dei teli che stendiamo alla fine di di maggio e rimangono giù fino alla fine di settembre quindi questi tre mesi ci permettono di salvare circa un metro e mezzo di ghiaccio ogni anno qui quello che vi dicevo è questo noi effettivamente il cambiamento climatico lo stiamo vivendo veramente in modo drammatico e quindi abbiamo anche questo obiettivo di sensibilizzare sul cambiamento climatico quest'anno andremo ad installare una passerella alla base del ghiacciaio in cui racconteremo anche dal punto di vista fotografico cosa stiamo facendo dal 2008 ad oggi andremo anche a raccontare ai turisti che andranno a visitarlo diciamo tutta una serie di buone pratiche di quello che va fatto per cercare insomma di salvaguardare sia la pratica dello sci che a noi sta molto cara che i nostri ghiacciai perché sono fonte d'acqua che diciamo la nostra la nostra natura e il mondo che abbiamo vissuto fino adesso per fare questo avevamo fatto anche una partnership da un paio di curiosità allora l'anno scorso con l'università delle arti di Berlino avevamo fatto tutto uno studio che poi è stato portato anche alla biennale di architettura di Venezia in cui era stato ricostruito il profilo di una montagna con uno di questi teli geotessili e praticamente veniva raccontato quello che facciamo anche dal punto di vista umano nel senso che veniva proprio raccontato come intrinseco nella nostra comunità ci sia la presenza del ghiacciaio e come sia uno sforzo disumano perché anche se lo copriamo ci mettiamo tre settimane con venti persone a coprirlo tuttavia lo stiamo solamente non riusciremo a invertire questo trend a meno che non cambi proprio a livello globale l'emissione di CO2 e il riscaldamento noi cerchiamo solo di tamponare per avere qualche anno in più della nostra economia quindi questo è stato un passaggio importante poi ha avuto anche una rilevanza mediatica importante e da qui è partito tutto uno studio anche per il riciclo e il riuso di questi teli che sono geotessili che ad oggi vengono utilizzati sugli acciaio e da quest'anno verranno utilizzati sia in edilizia perché sono in pratica lo stesso materiale delle geostuoie che vengono utilizzati anche nei giardini per diciamo dividere i vari strati di aia pesante rispetto al terriccio e poi stiamo anche cercando di farne abbiamo fatto delle borsine perché comunque è un tessuto e stiamo cercando anche di farne dei filamenti per la stampa 3D abbiamo abbiamo queste centrali idroelettriche tra il comune di Vermiglio e altri comuni invece della Valcamonica abbiamo circa una decina di centrali idroelettriche che ci permettono che sono posizionate diciamo sui torrenti che ci permettono di avere un bilancio positivo rispetto all'energia che utilizziamo rispetto a quella che andiamo a produrre qui vi ho messo anche un progetto particolare sempre come che abbiamo fatto insieme all'APT della Val di Sole si chiama progetto rifugi sostenibili abbiamo tre rifugi sulla linea del ghiacciaio che sono diciamo uno a una quota più bassa uno a 2500 metri e uno a 3000 metri qui la buona pratica e il terribile che stiamo facendo è che vi sia una riqualificazione della proposta enogastronomica che vengano quindi utilizzati prodotti di qualità certificati e a chilometro zero che valorizzano elementi culturali identitari del territorio e coinvolcano e favoriscano l'economia locale quindi il formaggio fatto nella maglia locale che venga poi venduto in loco impiego all'interno delle strutture di energia proveniente da fonti rinnovabili e valorizzazione del fattore umano potendo particolarmente attenzione ad una crescita inclusiva e sostenibile del personale anche svolgendo azioni volte a far vivere la migliore esperienza degli ospiti perché uno dei problemi anche che abbiamo è che ovviamente dove vi è turismo di massa a volte il fattore sociale incide molto nel senso che si hanno lavoratori stagionali per stagioni molto corte quindi una pratica invece che deve essere tenuta molto in considerazione è quella di cercare di allungare le stagioni non avere turismo morti e fuggi e questo garantirà in futuro anche di non avere più lavoratori stagionali ma avere lavoratori annuali che potranno poi insediarsi in comuni piccoli come i nostri che attualmente diciamo vivono o rischiano di vivere il fattore dello spopolamento perché andando sempre a guardare negli obiettivi della sostenibilità vi è quello di avere di cercare salute benessere inclusione sociale per una vera inclusione sociale bisogna star bene e quindi bisogna avere un lavoro che ovviamente non ti porta a muoverti ogni tre mesi da una parte dall'altra d'Italia o del mondo ma che ti dia una garanzia annuale quindi un grande sforzo che parte dai nostri progetti è quello che però mira ad avere stagionalità del turismo più lunghe e che miri quindi ad avere un benessere di tutta la socialità che vive nella nostra valle nella nostra comunità che possa insomma diciamo avere una dignità lavorativa importante poi vi parlo un po' degli eventi sostenibili che abbiamo fatto in località abbiamo questo perché il primo giorno è intervenuta la Daniela Isetti che è stata vicepresidente della federazione italiana ciclismo e membro del board della federazione internazionale ciclismo e questo che tu dicevi dei rifugi è un modello che poi si può applicare anche in pianura che non si chiederanno rifugi ma si chiederanno locande osterie come vuoi chiamare e il discorso della sostenibilità è importante anche appunto a livello non solo ambientale ma anche a livello appunto enogastronomico quindi cercando di usare prodotti chilometro zero e la Daniela diceva che proprio grazie allo sviluppo del cicloturismo quindi con i cammini con i percorsi eccetera quindi vale anche per Nordy Walking per chi va a piedi non solo in bicicletta o chi va a cavallo insomma chi si muove in modo sostenibile dei comuni soprattutto comuni di montagna che partivano un pochino lo spopolamento l'abbandono e hanno ricominciato a diciamo a ripopolarsi perché con queste attività si sono tornate le attività non so di chi è giusta le biciclette oppure della locanda che offre non so alloggio piuttosto ci pasti eccetera e quindi quello che dici c'è quello di ne parlavamo appunto l'altro giorno anche con un collega che partecipa al corso della Calabria allora hanno la Sila che è un proposto bellissimo e quindi ecco cercando di sviluppare un turismo sostenibile e soprattutto un turismo di benessere non solo sportivo nel senso stretto della parola ma anche di benessere quindi il fatto di appunto passeggiate cicloturismo andare a cavallo eccetera questo permette di poi di creare un'economia una piccola economia del territorio che come diceva Michele fa bene appunto evita l'abbandono magari in prospettiva può anche dare la possibilità di evitare i lavoratori stagionali e quindi che queste persone che vengono fuori per lavorare poi si diciamo fissino dimora nel comune o nei nei dintorni diciamo del territorio quindi ecco volevo diciamo dire questa cosa perché noi stiamo cercando di portare attraverso le vostre le vostre lezioni una serie di proposte di modelli che poi ognuno ovviamente deve adattare alla propria realtà ma ciò che si fa in montagna si può adattare perfettamente poi è un'altra situazione di costa di collina di pianura di bosco ecco scusami niente grazie addirittura lì si può adattare sicuramente noi abbiamo fatto questo siamo partiti con una proposta per tre rifugi perché erano diciamo era un caso studio semplice perché si trovano vicini su una linea del ghiacciaio e lì addirittura quello che è stato fatto da parte di APT della Val di Sole era di certificare un menu ISO che quindi certifica che vengono utilizzati prodotti a chilometri zero dove vengono presi da che fattoria da che produttore quindi questo è importantissimo perché favorisce l'economia della località intera quindi è un fattore che ovviamente si può riproporre dovunque è un accento però l'importanza di cercare di non andare ovviamente a prendere i frutti tropicali ma usare i lamponi della località per farsi prodotti tipici ecco questo è che è sempre più importante perché vediamo quanto i turisti sono sempre più attenti anche alla responsabilità di quello che mangiano quindi questo è un fattore importantissimo tutti noi ormai andiamo quando prendiamo il melone al supermercato andiamo a vedere se è di produzione italiana o se viene dall'altra parte del mondo quindi e preferiamo sicuramente quello italiano e così se siamo qui preferiamo i lamponi in Italia piuttosto che quelli austriaci perché siamo sempre più attenti anche quando andiamo in vacanza ad assaggiare esperienze e prodotti locali questo è importantissimo anche questo ovviamente è una nozione che matura col tempo ed è legata come raccontavamo prima anche alla comunicazione che ci viene passata e fa crescere tutta la comunità crescendo questa responsabilità che abbiamo verso il nostro territorio crescono e mutano anche quelli che sono i nostri interessi e le nostre attenzioni e quindi tornando a una particolarità per cui noi organizziamo una serie di eventi lungo tutto l'anno il più particolare è sicuramente questo che è Ice Music Festival è un festival musicale che viene fatto all'interno di un igloo fatto di neve di ghiaccio abbiamo vinto un premio per questo per questo evento che è il premio come miglior evento sostenibile di montagna l'abbiamo vinto due anni fa è stato un riconoscimento molto importante perché è sostenibile questa cosa perché l'edificio è sostenibile per eccellenza viene fatto di neve di ghiaccio e alla fine dell'inverno si scioglie quindi impatto assolutamente zero viene fatto a mano dai nostri operai abbiamo solo 30 dai nostri operai più grandi dai nostri volontari qui vedete qualche immagine degli strumenti di ghiaccio che anche questi alla fine dell'anno si sciolgono avevamo violino violoncello batteria tanti strumenti alla fine dell'anno si sciolgono quindi zero impatto fatto solo con le mani realizzato e a fine dell'inverno quando non è più diciamo non vi è più il clima si scioglie era anche un messaggio questo è un messaggio che noi riusciremo a fare un evento così bello fino a quando avremo il clima almeno come questo perché se ogni anno abbiamo un grado in meno ogni anno riusciremo a fare diciamo a farlo durare meno e finché ci sarà un momento che se il trend è questo non riusciremo più a farlo questo è un messaggio che abbiamo fatto passare molto importante quindi qualche citazione qui che abbiamo fatto premia questo premio premia la passione la definizione dei tanti e la dedizione dei tanti volontari locali tra maestri di sci e operali che hanno reso possibile l'iniziativa quindi anche qui un'attrazione sociale ce lo siamo fatti come località abbiamo messo insieme un gruppo di appassionati di montagna che hanno reso possibile questa iniziativa allo stesso tempo uno stimolo per seguire nella ricerca di iniziative per innovare la proposta del turismo montano invernale quindi anche qui siamo andati un po' a cambiare un paradigma solitamente la vacanza invernale è sci hotel sauna piscina e basta siamo andati a inserire un fatto di cultura diciamo che a lato di questi di questi concerti andavamo a spiegare quello che vi sto dicendo andavamo a dire attenzione vi è piaciuto il concerto sì state attenti perché se non cambiamo le nostre pratiche e le facciamo evolvere in buone pratiche tra qualche anno questo non potremmo più farlo quindi andiamo a passare anche noi dei messaggi buoni a tutte le persone quindi la creazione di Ace Dome è l'idea di un'intera kermesse musicale eseguita con solo strumenti di ghiaccio ha però un alto valore simbolico richiama al pubblico l'importanza dell'acqua come materia prima essenziale per la vita e il futuro delle comunità montane poi qui abbiamo vi leggo l'ultima è la dimostrazione che abbiamo colpito nel segno oltre a fare musica di alto livello in luogo paradisiaco abbiamo voluto lanciare un massaggio di sostenibilità ambientale abbiamo cercato infatti di ricordare che il futuro dei nostri meravigliosi paesaggi alpini dipende dall'acqua e dall'utilizzo sostenibile di questa preziosa risorsa vado poi avanti a questo parallelamento abbiamo fatto Nascere Water Music Festival anche qui è un festival musicale che si tiene sui nostri laghetti alpini durante il mese di agosto e anche qui andiamo ovviamente a far passare delle nozioni sull'importanza che ha l'acqua per la nostra comunità e per il nostro mondo e quest'anno come non mai andiamo a vederlo perché sappiamo tutti la situazione di siccità che stiamo vivendo abbiamo fatto addirittura questo per coinvolgere a livello sociale tutta la comunità era stato diciamo fatto un lavoro anche con le scuole più di 300 bambini coinvolti in cui gli avevano chiesto di scrivere una favola sul ciclo dell'acqua che poi era stata introdotta in uno di questi spettacoli e quindi passata al pubblico in modo che anche tutti i bambini fin dalla loro primi età scolari sappiano e riescono a metabolizzare l'importanza dell'acqua in primis e del risparmio d'acqua e dell'uso responsabile di questa risorsa vengo poi all'ultimo macro tema di questa mia presentazione è sostenibilità e amministrazioni allora vi parlo del mio caso diciamo il nostro caso del nostro comune in cui noi ci siamo presentati alla nostra cittadinanza con un programma che riguardava molto la sostenibilità e lo sviluppo turistico noi abbiamo pensato prima se ne parlava abbiamo pensato alla realizzazione di un cammino questa è la mappa diciamo del nostro comune e quello in rosso che vedete è il cammino che abbiamo ipotizzato quindi sono circa 100 km di cammino che interseca tutta una serie di sia di frazioni ma anche di diciamo edifici dismessi che vanno recuperati e messi al servizio per riuscire senza nuovo consumo di suolo ma riuscire diciamo a valorizzare quello che già abbiamo quindi 5 tappe con una serie di interventi che piano piano stiamo affrontando e questo è l'esempio diciamo di quello che che poi passava da Capanna Presena al Passo del Tonale la ferrata del Sentiero dei Fiori questo addirittura c'è già quest'anno andremo a fare un percorso una manutenzione di circa 100.000 euro per sistemarlo oppure vedete invece a destra abbiamo la realizzazione di un parco che è stata fatta e due diciamo edifici che vanno ristrutturati messi a posto e resi insomma alla fruizione di quelli che sono come dicevamo anche prima l'attenzione sempre più importante che c'è verso i campini e verso i trekking da parte di un turista che è sempre più che è sempre più sportivo un altro tentativo che vi passo è quello fatto insieme alla Val di Sole e a tutti all'APT della Val di Sole alla comunità di valle della Val di Sole e a tutti i comuni quindi a tutti i 13 comuni della Val di Sole per cercare di delineare un master plan di località con uno sguardo alla sostenibilità quindi abbiamo anche noi preso il famoso diagramma della sostenibilità che abbiamo visto prima l'abbiamo declinato sulla nostra comunità quindi abbiamo messo tra i tre i tre punti fondamentali che dobbiamo salvaguardare quindi ambiente quindi andando a sviluppare qual è il problema più importante della nostra valle che è la mobilità comunità attenzione alle nuove generazioni quello che vi dicevo prima bisogna stare attenti allo spopolamento e management in produttorialità c'è sempre in località montane come la nostra in questo momento vi è la carenza di nuove imprenditorialità quindi se noi riusciremo a fare cerchio intorno a questi tre obiettivi riusciremo ad aumentare la qualità della vita per gli ospiti residenti andiamo andando a centrare anche degli obiettivi di sostenibilità e qui vi do alcuni spunti da questo lavoro che abbiamo fatto che stiamo ancora facendo sono usciti alcune ma creare quindi ci piacerebbe andare a pedonalizzare gran parte dei centri turistici della Val di Sole quindi questa è la nostra valle abbiamo messo sei punti per cui partire da Malè di Maro da Ulasa Mezzana Ossana Eltonale ci piacerebbe andare ad eliminare dai centri cittadini quelle che sono le auto perché altrimenti abbiamo dei periodi dell'anno in cui i comuni sono veramente tanto congestionati noi sappiamo che quando le macchine sono ferme e mettono più CO2 stiamo addirittura facendo un grosso investimento a livello di tutti i comuni con 400 mila euro di investimento in cui andiamo a mettere pagando noi una serie di colonnine per la ricarica dell'automobile perché abbiamo anche il problema che non essendo una città non siamo appetibili dai grandi player energetici per andare a installare delle colonnine e quindi verremo lasciati per ultimi quindi invece siccome anche noi diciamo l'obiettivo è quello di essere sostenibili andiamo a fare questo grande investimento andiamo a mettere una serie di colonnine su tutti i comuni della Val di Sole grazie a tutti i comuni grazie a tutti i comuni